O Signore, crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, uno spirito forte, capace di decidere la conversione. Non scacciarmi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo Santo spirito, quello spirito che in me rende presente la Tua persona. Dal Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 29-32. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nell'ascoltare questo Vangelo, forse nasce in noi una difficoltà. Ci domandiamo come mai la generazione, cioè i contemporanei di Gesù, chiedono un segno per credere in Lui, con tutti quei segni che Gesù aveva fatto, quante guarigioni ha fatto Gesù. Eppure chiedevano un segno. Forse possiamo pensare che volessero da Gesù qualcosa di straordinario. Un segno che dimostrasse in maniera evidente che egli veniva da Dio. Se ricordiamo, questa era stata la tentazione del diavolo. Il diavolo aveva suggerito a Gesù, sali sul pinnacolo del Tempio. L'altezza del pinnacolo è 150 metri. E davanti agli occhi della folla, buttati giù. Se gli angeli verranno a sostenerti e a depositarti sano e salvo a terra, certamente tutti saranno meravigliati, ti batteranno le mani e ti riconosceranno come il figlio dell'uomo, l'inviato definitivo di Dio. Invece Gesù non ha ceduto a questa tentazione e i segni che Lui fa vengono nel segreto della vita quotidiana, sono provocati dalla compassione verso i malati concreti. Questi miracoli quotidiani, secondo la gente, non sono dei segni sufficienti. Non è forse così anche per la nostra generazione? Non è più stupita dai segni che oggi della quotidianità Gesù opera? Magari sentiamo di un giovane che abbandona tutto per seguire Gesù. Non è forse un segno che dovrebbe provocarci? Vediamo una coppia che testimonia l'amore fedele e fecondo anche in mezzo alle prove e questo non è un segno della fecondità di Gesù, della potenza di Gesù. Vediamo comunità che vivono la preghiera, comunità che testimoniano la carità in maniera gratuita, gioiosa. Per esempio, potremmo essere stupiti anche qui a Jesolo da un piccolo segno. Se ci domandiamo in una città dove i metri quadrati di terreno valgono oro, gli unici terreni dedicati gratuitamente al gioco, allo sport e per i ragazzi sono i terreni della comunità cristiana, che la comunità cristiana ha salvaguardato in maniera gratuita per il bene dei ragazzi. È l'unico terreno che segue questa logica e da dove nasce questa scelta? Non è forse un segno della potenza di Gesù? Al contrario non vediamo forse i segni opposti, il disagio, le ineguaglianze nella società, le famiglie spaccate, i frutti evidenti di una società che rifiuta la luce di Gesù. Tutto questo dovrebbe parlarci. Tutte queste cose sono davanti ai nostri occhi, come Gesù era davanti agli occhi dei suoi contemporanei. Eppure riteniamo che questi segni non siano sufficienti, non ci convertiamo, seguiamo la mentalità comune e releghiamo Gesù a tradizioni, non a vita. Abbiamo per esempio messo in atto in questa prima settimana di quaresima, oggi siamo un mercoledì scorso, abbiamo iniziato il percorso della quaresima. Bene, in questa settimana abbiamo posto dei gesti di cambiamento nella preghiera, nel digiuno, nella carità, per rispondere a quei segni che ci parlano della presenza forte di Gesù, che opera meraviglia in mezzo a noi. Nel suo discorso Gesù, per provocare la sua generazione, parla della regina di Saba, degli abitanti di Ninive, stranieri che si erano convertiti, che avevano ammirato la sapienza di Israele. Anche oggi noi sentiamo raccontare dai missionari come popolazioni che non hanno radici cristiane, si avvicinino invece con entusiasmo, alla fede in Cristo. E noi, ricordo con una certa amarezza la storia di un missionario, di una diocesi qui vicina, che dopo aver passato parecchi anni in missione, è ritornato per fare il parroco di alcune comunità. Dopo un po' di tempo ha chiesto di essere esonerato dal suo ministero, non voleva più fare il parroco, con nostalgia ricordava come nei paesi di missione viveva l'entusiasmo della gente per Gesù e come invece qui si trovava gente abituata a tradizioni, a quello che sempre si era fatto, ma senza la passione per la gioia del Vangelo, per la gioia della fraternità, per la condivisione. Vieni, Spirito Santo, rendici consapevoli e grati per la presenza di Gesù in mezzo a noi. Aiutaci a vedere i segni che la fede produce, i segni della presenza di Gesù in mezzo a noi. Aiutaci a riconoscere che tu sei un segno di salvezza, che la predicazione del Vangelo è un dono che sana la nostra vita. Donaci occhi capaci di stupore, occhi che riconoscono la bellezza e la grandezza di Gesù, il sapiente, il profeta, che ci chiama certo a conversione, ma per gustare il dono pacificante, il dono sanante del tuo amore. Donaci, oh Signore, il tuo spirito, perché abbiamo vita, la vita che non ci sarà mai tolta. Ti benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.